Non sono morti bianche, sono omicidi. E la responsabilità non è solo di chi si è resa autore di un omicidio, e questo sarà la magistratura ovviamente a stabilirlo nella sua autonomia e indipendenza, ma sono responsabili quantomeno moralmente e politicamente anche tutti quei politici che in Parlamento in questi anni hanno smantellato i diritti, la protezione dei diritti, hanno mortificato l'articolo 1 della Costituzione che mette il diritto al lavoro al primo posto, hanno cancellato l'articolo 18, l'alternanza scuola-lavoro, il job-back, sempre perché il denaro deve venire prima delle persone. Oggi invece credo che queste persone testimoni una solidarietà a Mattia, alla sua famiglia, ma anche una lotta per i diritti, per evitare che continuino ad accadere questi omicidi. Poi ci vogliono più ispettori che controllano i cantieri, ci vogliono pene più esemplari, leggi più severe e credo che per questo tante persone continuano a lottare e non si piegano. E chi li fa i controlli? Le fanno le persone. Se le persone non vengono assunte per controllare diventa più difficile fare i controlli. Se si cancella l'articolo 18 che diceva che se un lavoratore o una lavoratrice viene ingiustamente licenziata sarà reintegrata, è chiaro che quella persona non avrà più la forza di poter denunciare eventuali violazioni delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. Quindi è un insieme di cose su cui bisogna lottare.